L'avevamo visto pochi minuti fa questa nave del Corsica Ferriss, la gemella era partita e questa fa dal cambio e sta entrando, sta entrando per mettere poi le eliche ferme e le gomene al fermo. Guardate il bulbo rosso davanti, vedi? Il bulbo rosso è uno spezzavonde in poche parole e in poche parole c'è stato uno scambio andata e ritorno tra due navi uguali ovviamente della stessa compagnia e se non vado errato, ma non credo, questo scambio continuo è per l'isola della Capraia. Come dici? Anche quella è Corsica Ferriss. Sì, va bene, ma la vedi diversa la nave? Sì, la vedo sì, certo. Eh, naturalmente quella è una passeggeri, questa è un'altra cosa. Stop! Ciao!